eccoci qua vediamo un po se arriva qualcuno non vedo ancora nessuno ecco qua ecco qua mi vedo un po in ritardo buonasera buonasera a tutti buonasera anna buonasera enrico grazie per avermi ospitata allora questa sera volevo parlare di premonizione e ciao loredana questa sera volevo parlare di premonizione e altri fenomeni perché ce ne sono tanti quindi iniziamo buonasera buonasera roberta linda ciao a tutti allora cominciamo dalla premonizione allora per la premonizione che è un termine usato in modo sbagliato perché i sogni sono tutti premonitori mentre i sogni che intendiamo quelli che predicono il futuro le calamità la morte di qualcuno quelli sono sogni precognitivi quindi da l'insieme conoscere prima sapere prima mentre il sogno premonitore è un sogno che monere è il verbo ammonire ci avvisa prima di qualcosa che succede quindi in questo senso tutti i sogni sono premonitori perché ci avvisano di che cosa stiamo facendo e in questo modo noi prendendo consapevolezza possiamo scegliere di cambiare o di agire diversamente insomma in base sulla base dei consigli del sogno ovviamente andandolo ad analizzare faccio anche presente che quando qualcuno sogna qualcun altro di solito magari mi si scrive oppure mi vengono in mano dei sogni dove qualcuno dice mi ha sognato mio fratello ha sognato che facevo questo puoi dirmi cosa 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 mi riguarda che cosa devo fare cosa mi succederà e invece in questi sogni dove sogniamo le altre persone sono sempre dei simboli anche le altre persone che riguardano noi stessi nel sogno tutto riguarda sempre noi stessi quindi vista in questo modo il sogno premonitore è quel sogno che ci avvisa che ci mostra su che strada stiamo camminando e come lo stiamo facendo quindi noi possiamo prendere il sogno la dinamica la scena del sogno osservandolo da fuori quindi non pensando mio fratello mi ha sognato e allora cosa mi succederà no bisogna osservare la dinamica che cosa succede quali sono le emozioni per esempio io vedo mio fratello con la sua fidanzata sono anche un po gelosa questo nel sogno allora nella realtà che dopo che mi ricordo questo sogno mi chiederò quando è che io sono stata gelosa di mio fratello che cosa mi vuole dire questo sogno magari arriva il giorno successivo o dopo due giorni arriva con una persona che è la sua nuova fidanzata allora io mi ricordo il sogno e penso aspetta un attimo devo reagire bene perché quella sensazione magari non è proprio nei confronti di mio fratello ma è una sensazione personale che riconduco a cose personali quindi in questo senso il sogno è sempre premonitore mentre i sogni precognitivi sono sogni in cui noi vediamo ciò che accadrà in un futuro a volte accade a volte non accade a volte riguarda un paese che nemmeno conosciamo altre volte riguarda magari delle persone a noi vicine che potrebbero venire a mancare questi episodi questi fenomeni esistono esistono dalla notte dei tempi ci sono ad esempio i gran vizir dell'impero ottomano erano nient'altro che persone che avevano il dono della visione di magari anche anticipare il futuro e quindi i sovrani se li tenevano ben vicini e li facevano stare bene in modo che non andassero mai via pronti per essere consultati anche i sogni nella bibbia sono delle premonizioni succederà questo succederà quello quindi questo è nelle possibilità cioè fra tutte le possibilità una delle possibilità che abbiamo noi esseri umani quindi noi abbiamo la capacità come abbiamo la capacità di sognare abbiamo la capacità una volta addormentati di sperimentare diverse esperienze diversi stati di coscienza poi parlando sempre di sogni precognitivi bisogna vedere che cosa decidiamo di fare di questi messaggi che cosa perché il problema che ho conosciuto con queste persone è che non sanno che cosa fare devo dirlo non devo dirlo ma io ho visto qualcosa so che succederà però succederà non lo so in Bangladesh e quindi come si fa ad avvisare eccetera eccetera quelle sono cose personali perché le cose delle volte accadono la maggior parte delle volte e altre no ci sono state in passato moltissime persone che hanno contattato scienziati psicologi si sono messi a disposizione uno di questi è anche Umberto di Grazia io ho letto nel suo libro lui mandava le cartoline con scritto il sogno e cosa doveva accadere e quindi queste persone monitoravano verificavano se davvero accadeva e quando accadeva perché si mettevano anche delle ipotetiche date questo accadrà mi ricordo diceva di Grazia entro dieci o quindici giorni quindi c'erano questi esperimenti in atto sono stati molti secondo me ne fanno ancora su queste previsioni alcune di queste persone vengono anche tenute diciamo sotto l'ala dei servizi segreti o altre cose perché magari sono utili anche in quel campo lì però si sa che l'essere umano può vedere queste cose noi abbiamo come esempi un'infinità di persone che ci hanno mostrato che questo è possibile uno di questi è per esempio Cico Xavier che lui nella sua umiltà nella sua piccola casa riceveva le informazioni dei defunti da dare ai loro genitori poi ce ne sono altri abbiamo non lo so abbiamo Gustavo Roll che anche lui era capace di spostare le cose ha aiutato molto le persone in tempo di guerra al suo paese mi ricordo che quando i tedeschi lo minacciavano lui voleva qualcosa da loro gli faceva vedere i suoi prodigi tipo gli leggeva la lettera che era chiusa nel cassetto allora il soldato si spaventava e gli dava quello che voleva di solito era liberare alcune persone quindi ci sono queste capacità e sono vicino a noi un altro per esempio è Edgar Cayce il creatore cioè la sua associazione ha creato ha fatto nascere anche il cerchio di aiutanti in sogno che è uno strumento bellissimo lui utilizzava Edgar Cayce proprio i sogni era una persona buona non aveva studiato molto e non si era mai mosso dal dal suo paese lui aveva questa capacità di conoscere le persone conoscere gli eventi conoscere le cose del passato del futuro gli era sufficiente mettersi disteso sul suo divano aspettare due tre minuti di addormentarsi e lui nel sonno parlava poi non si ricordava quando si svegliava che cosa aveva visto e sperimentato ma dopo un po' di tempo è arrivata una segretaria che prendeva nota di tutto altrimenti prendeva nota insomma prendevano nota i parenti di quello che diceva allora lui dava diagnosi di malattie senza avere nessuno studio medico o aver studiato credo più dell'equivalente nostro della terza media quindi dava diagnosi diceva dava anche disposizioni tipo di fare dei raggi x o di dare determinate medicine allora i medici delle volte si sbalordivano però poi lui aveva ragione quest'uomo Edgar Cayce ha lasciato nei registri come testimonianza 14.000 sedute di persone che ha guarito persone alle quali ha fatto ritrovare il proprio figlio che era disperso in guerra oppure le donne specialmente in tempo di guerra andavano a chiedere notizie dei propri figli lui aiutava tutti e non voleva denaro una particolarità di queste persone che vengono anche scelte secondo me è l'umiltà la totale umiltà niente giudizio niente pretese persone pure con una vita molto semplice un altro che mi viene in mente era non tutti lo conoscono Bruno Gröning lui è tedesco bavarese e lui era in contatto con la natura già da piccolo sentiva le persone le guariva solo a vederle a guardarle lui non faceva niente le persone gli dicevano che disagio avevano o che malattia e lui le guariva le guariva senza nemmeno toccarle a volte c'è stato un evento lo trovate su wikipedia se cercate Bruno Gröning a Rosenheim in Baviera si sono riunite migliaia migliaia di persone che erano venute per essere guarite da Bruno Gröning c'erano malati sulle barelle malati in sedia a rotelle ciechi bambini che non camminavano più lui diceva semplicemente alzati e queste persone si alzavano tanta fede c'era tanta fede in quest'uomo ma anche dei prodigi non si può negare davanti a prodigi che non si possono negare mi viene in mente credo la cosa più prodigiosa che io abbia mai sentito è la vita della monaca Therese Neumann questa donna questa suora ad un certo punto della sua vita si è guarita da sola da alcune malattie e ha iniziato a manifestare ogni anno ogni giovedì santo la crocifissione del Signore si può dire che quella donna incarnava Dio in quel momento Gesù per meglio dire perché iniziava a sanguinare le mani, il costato esattamente dove era stato ferito Gesù ma sono arrivati anche dei medici a vedere ad indagare perfino Hitler in tempo di guerra lui che era curioso di queste cose esoteriche ha mandato qualcuno a vedere perché lui aveva paura dell'occulto quindi se ne teneva distante perché questa donna non mangiava e non beveva loro sono venuti a sincerarsi proprio di quello che potesse vivere senza mangiare e bere ed effettivamente hanno constatato e riferito che Therese Neumann prendeva solo l'ostia quando c'era la messa e basta per 36 anni e al giovedì santo lei iniziava a sanguinare e soffriva perché soffriva la passione di Cristo però in volto lei era felice e quando è morta è morta con un sorriso di beatitudine quindi manifestazioni ce ne sono e allo stesso modo sono tutte soggettive sono tutte diverse non sono tutte uguali mentre quando noi per esempio abbiamo un'esperienza di premorte o un'esperienza spirituale di contatto con altre dimensioni vediamo tutti questa luce il tunnel questo senso di beatitudine e pace che non vorremmo quasi neanche tornare indietro questa è una sensazione uguale a tutti invece quando vengono distribuiti questi doni che potremmo avere anche noi lì sono soggettivi sono diversi da persona a persona e ciascuno secondo me ha il proprio destino in quel senso con i sogni premonitori è la stessa cosa molte persone che io ho conosciuto rifiutano questi sogni queste visioni che hanno e fanno fatica delle volte anche a parlarne io ne ho conosciute di persone amiche una mi raccontava che anche la madre aveva di queste esperienze però diceva sempre ti raccomando non parlarne mai con nessuno quindi questo è il retaggio mentale per cui ciao ciao ricardo per cui se non si è mai fatto allora non bisogna farlo non ci facciamo domande però in realtà quello che ho visto io in queste persone è una buona dose di timore di paura probabilmente di qualcosa che non conoscono che avviene semplicemente io non faccio niente ma vedo queste cose quindi poi cosa faccio cosa non faccio lì è un è qualcosa di molto soggettivo sì delle volte alcuni messaggi precognitivi per esempio che ci avvisano della morte di qualcuno servono prevalentemente a prepararci all'evento specialmente se è qualche nostro caro succede molto spesso che le persone prima di trapassare o proprio nel momento in cui lo stanno facendo arrivano in sogno arrivano in sogno belli sorridenti giovani se sono malati non sono più malati sono belli e sani e ci salutano ci salutano e se ne vanno e ci lasciano questa sensazione di non avere sospesi mentre invece molte volte la separazione di questo tipo la separazione fisica ci lascia il dubbio di non aver detto tutto di non aver perdonato oppure di non aver confessato qualcosa invece questi sogni probabilmente eliminano qualche conseguenza che il defunto potrebbe lasciare nelle persone quindi sì succede molto molto spesso le persone che mi raccontano di sognare che qualcuno si è manifestato e poi in realtà veniamo a sapere che è deceduto il giorno successivo la notte stessa questo sì anche con gli animali anche con gli animali ci sono animali che ci salutano prima di andare via quindi ecco noi abbiamo una noi siamo infinite possibilità alla fine noi possiamo tutto il discorso è che noi siamo come sempre vincolati siamo costretti dalle nostre stesse abitudini dai nostri vissuti diciamo che il nostro corpo e il nostro io esistono perché c'è qualcuno che ci vede che ci chiama per nome ci dà un nome qualcuno che ci insegna che cosa mangiare qualcun altro che ci insegna come ci dobbiamo vestire le parole che si dicono che non si dicono noi non ci rendiamo conto ma noi siamo fatti di questo se esiste un io è un qualcosa che ha imparato qualcosa da qualcun altro quindi il nostro mestiere è quello di tirare fuori quello che noi realmente siamo qual è la nostra natura Oksana Melny i miei sogni si avverano tutti sì sì Patrizia sì a me è successo da piccola che un parente mi ha salutato la stessa notte che trapassato sì sì Patrizia tra l'altro con i bambini è molto più semplice perché loro sono ancora collegati con la coscienza hanno molta più consapevolezza dell'adulto perché non sono ancora venuti a contatto con tutte le problematiche e tutte le regole della società della famiglia eccetera un bambino finché è piccolo lo si lascia anche fare poi da grande si comincia questo lo puoi fare quello non lo puoi fare quell'altro non si fa quell'altro non si dice eccetera in più la scuola che ci racconta la storia magari noi nei sogni l'abbiamo vista diversamente eccetera se pensassimo di togliere tutte queste cose per esempio una società e ci immaginassimo di nuovo primitivi primitivi o comunque a livello non lo so di persone indigene che vivono nella foresta piuttosto che sulle montagne che vanno a caccia eccetera eccetera la nostra mente sarebbe più aperta più libera e quindi potrebbe sperimentare di più tutte le esperienze tutte le dinamiche del sogno e della parte astrale della parte spirituale che noi cerchiamo adesso i nostri antenati le avevano le avevano in modo molto più naturale del nostro infatti io credo che questa ricerca della felicità sia anche un po' conoscere queste parti che noi abbiamo dimenticato che l'Oriente invece ha mantenuto tipo gli indiani con la loro meditazione i riti eccetera la vita molto più calma della nostra che è diventata frenetica accelerata all'ennesima potenza quindi ecco i sogni precognitivi avvengono esattamente come avvengono tantissime altre esperienze dopo che abbiamo passato la porta del sogno possiamo diventare consapevoli quindi ci svegliamo diciamo sto facendo un sogno lucido aspetta che adesso io vorrei parlare tanto con la mia amica che non c'è più oppure aspetta che io mi sono innamorato di una ragazza vediamo se nel sogno lucido riesco a farla innamorare oppure se riesco ad incontrarla andare a cena con lei eccetera noi possiamo fare un sacco di cose infinite una volta che passiamo la porta del sogno abbiamo diversi corpi noi noi abbiamo un io che ha una capacità di esistere di fatto in molte dimensioni perché noi abbiamo un corpo fisico ma poi abbiamo un corpo energetico che sarebbe l'aura con tutti i suoi colori che si vede che non è solo un'estensione del corpo ma è proprio una sagoma che regge a livello energetico il nostro corpo quindi questa energia di fatto è un corpo a sé noi possiamo sperimentare fare esperienza a livello di energia possiamo fare esperienze a livello di anima possiamo fare esperienze a livello di spirito e queste si manifestano in tutte queste modalità che abbiamo visto e rivisto in tutta la storia dall'inizio fino ad oggi che ce ne sono ancora di persone così quindi quando noi comprendiamo questo allora possiamo anche tendere l'orecchio per così dire pensare che noi non percepiamo soltanto con i nostri cinque sensi ma abbiamo a proposito di corpo energetico che dicevo prima avete presente quella sensazione quando camminate e vi viene da scattare dietro perché secondo voi sentite che c'è qualcuno alle spalle quella sensazione non è toccata dal corpo non è qualcuno che ci tocca nel corpo ma che probabilmente si è avvicinato con la propria sagoma energetica alla nostra e quindi a noi arriva qualche tipo di messaggio di disagio di gioia un ricordo eccetera quindi stando attenti a queste sollecitazioni a cui siamo sottoposti ogni giorno vi ricordo la piuma che cade dal cielo il sassolino a forma di cuore che ci troviamo davanti o tutti altri altre sincronicità che si manifestano tutti i giorni se noi facciamo attenzione a quelle cose lì e cominciamo a pensare che noi abbiamo queste possibilità di vivere queste altre dimensioni che stiamo vivendo con gli altri corpi e allora ci si apre veramente un mondo di possibilità se ci crediamo e quindi diciamo magari io adesso in un'altra con un altro dei miei corpi sto facendo un'esperienza del genere magari poi sogniamo quello che pensiamo essere una vita precedente invece è un altro nostro corpo magari animico che ci fa vedere guarda cosa stiamo facendo adesso sì il fatto è che noi abbiamo questi corpi esattamente come abbiamo una mente come abbiamo spirito come abbiamo anima però di solito in noi è prevalente la parte mentale soltanto la parte mentale razionale perché a dire il vero la mente è quella che ci fa anche lavorare per ottenere un sogno lucido che ci fa lavorare ci aiuta se vogliamo programmare un sogno o che ci fa lavorare se vogliamo esercitarci ad avere delle esperienze extracorporee è sempre la mente che fa questo è il modo in cui la usiamo che purtroppo non dico ci è sufficiente noi non lo sappiamo che sa fare tutto la mente alla fine e quindi ne facciamo un uso molto limitato molto limitato al gestire le faccende quotidiane al lavoro al raggiungere i nostri obiettivi e basta non crediamo possibile di avere queste possibilità quindi queste possibilità di incontrare chi non c'è più piuttosto che piangere andarli a trovare vedere come stanno e quindi cambiare il nostro modo di vedere la cosa tornare felici mi ricordo che un giorno fece un video l'amico Davide Rozzoni su un personaggio che lui conosceva che aveva perso la moglie aveva perso la moglie lui la voleva vedere la voleva sognare la voleva incontrare allora lui pregava tutti i giorni che sua moglie si facesse viva con lui e alla fine senza farla tanto lunga credo che abbia pregato diversi anni prima di vedere sua moglie però poi quando era anche lui ormai in tarda età la moglie è arrivata e lui era felice felice felicissimo perché hanno parlato si sono chiariti e lei gli ha detto che lo aspetta eccetera eccetera e quindi è stato premiato e sa solo che è solo questione di tempo poi ritorna da lei perché lei l'ha vista sta bene si sta bene di là e quindi praticamente aspetta la morte con gioia perché sa che si riconjugerà con un suo amore questo è quello che fa l'intento la mente programma programma no io devo devo riuscire devo riuscire e noi con l'intento possiamo fare tutto possiamo fare i miracoli quindi sì abbiamo queste capacità dobbiamo ritirare fuori questa attenzione attraverso tutte le antenne che possediamo e quindi come dicevo prima anche l'attenzione all'energia che circola non tutti fanno caso a questo ad esempio ci sono dei posti mi è successo in un modo molto significativo in una chiesa antica molto famosa dove sono entrata e io subito mi sono detta qui dentro deve essere successo qualcosa di brutto e quindi non lo so magari una guerra chissà che cosa ma io sentivo questa energia qua quindi non dobbiamo fermarci pensando no è da pazzi pensare così ma cosa vuoi che sia sarà un profumo sarà qualcosa no ascoltiamoci bene e se ci ascoltiamo bene quella sensazione c'è quindi non abbiamo prove non possiamo andare indagare infatti poi sono andata a indagare su quella chiesa effettivamente sì era successo qualcosa di più che brutto e quindi io ho trovato conferma ma anche se non ce l'abbiamo ascoltare queste sensazioni senza banalizzarle perché ci è stato insegnato a banalizzare queste sensazioni ci è stato detto no non dire mica nessuno sai queste cose qua perché sono le credenze che noi portiamo avanti vi ricordo lo dico spesso che se 20 o 30 anni fa si andava dallo psicologo allora si era mal visti vuol dire che c'era qualche problema serio in quella casa i sogni figuriamoci non si raccontano perché sono cose per bambini e quindi dobbiamo anche renderci conto che questo sforzo è solo di superare qualcosa che non serve più non è più utile lo sanno anche i cani che insomma che si sogna e che i sogni sono utili e quindi io quando parlo di sogni lo sapete parlo di quando si va a dormire e tutte le altre visioni o esperienze che possono accadere quindi in questo senso sogno però io mi ricordo quando ho letto il libro la prima volta di Robert Monroe lui capitavano queste esperienze fuori dal corpo e non sapeva che cosa fare e quindi per fortuna aveva degli amici medici un amico psicologo che gli consigliò di andare in India così a vedere se ci capiva di più e non trovava nessuno alla fine ha capito che c'era qualcuno si incontravano di nascosto per parlare di queste cose e quindi ha capito e lui ha cominciato a studiare da solo quindi ma erano gli anni 60 mi sembra 60 70 quindi insomma ne è passato di tempo si è lavorato sui sogni e anche su molte esperienze e adesso c'è modo anche di leggere di trovare video libri e persone che parlano di questi argomenti quindi in modo da diciamo modificare questa credenza che ci è stata inculcata per per tanti anni che queste esperienze non si fanno che Dio lo trovi solo in chiesa che non lo so i sogni non vogliono dire niente sono desideri repressi e basta invece no invece no nei sogni ci sono delle risorse infinite che ci aprono la strada da passato a futuro ci migliorano il presente questo sì un attimo che vedo i messaggi perché qua allora Rita ciao Daniela una mia amica un mese prima di andare via mi è venuta in sogno era più giovane e più magra diversa da com'era nella realtà io nel sogno sapevo che era lei ecco questo è un esempio quando facciamo delle esperienze dei sogni come Rita grazie Rita e sono esperienze che solo noi possiamo capire nessun essere umano è uguale a un altro essere umano il mondo come lo vedo io non è il mondo come lo vedete voi e il mondo che vedete voi non è come il mondo che vedono altri praticamente ogni mondo è unico noi abbiamo un'interpretazione della realtà soggettiva e lo stesso vale per il sogno quindi se per me il sole è giallo e per Rita ad esempio è verde io devo constatare che effettivamente forse ci vede male o forse non lo so forse lei vede cose che io non vedo fatto sta che le vediamo in due modi diversi in questo senso quando le persone mi chiedono ma era era la mia amica che ho visto era lui o non era lui quando c'è questa domanda vuol dire che o c'è la percezione ma viene rifiutata perché non può essere certe persone pensano anche di non essere degne di essere visitate da queste persone o figure mistiche oppure dai defunti oppure altre si spaventano però in realtà l'unica persona che può sapere se era o non era un contatto con questa persona è solo chi l'ha sognato quindi noi possiamo dire sì perché ci sono tutti i presupposti perché solitamente quando si presentano e stanno bene sono più giovani sono belli stanno bene incutono pace eccetera eccetera sì possiamo dire questo ma la parola finale la deve mettere il sognatore perché la percezione è la sua esattamente come il corpo energetico mio non è uguale a quello degli altri il corpo mentale mio non è uguale a quello degli altri quindi siamo noi a creare la nostra realtà e solo noi possiamo interpretarla questo è chiaro quindi esattamente come i sogni e come le percezioni le ascoltiamo sappiamo che nessun altro percepisce come me o non lo so come percepisce ma so che cosa sento e se io sento che qualcosa mi ha toccato dietro alle spalle allora vuol dire che qualcosa mi ha toccato dietro alle spalle sono avvertimenti compagnie noi non siamo mai soli mai noi abbiamo come ho detto prima un contatto con il mondo che è limitato noi abbiamo i cinque sensi abbiamo l'intuito tutto quello che vogliamo però ci sono delle manifestazioni di vita che noi non vediamo noi non vediamo gli atomi o come sono fatti le polverine il polviscolo che c'è nell'aria noi non possiamo vedere i raggi ultravioletti ma ne subiamo gli effetti non possiamo sentire un sonar perché non abbiamo gli ultrasuoni noi quindi non sentiamo quel rumore in questo senso a livello energetico non solo con i prodotti dell'uomo con le tecnologie dell'uomo ma tutta l'energia che è pervasa nel cosmo noi la percepiamo solo che non ci rendiamo conto quindi in questo senso possiamo aspettarci di tutto nel senso possiamo dare un motivo a queste manifestazioni che ci capitano come le moltissime sincronicità ultimamente è un periodo molto molto carico di energia che si manifesta a livello di sincronicità ultimamente sì siamo spinti a comprendere noi stessi sì grazie Rita vediamo avevo visto altri De Francesco Simona buonasera Danila vorrei che mi desse una sua opinione ascoltandola con attenzione mi è venuta una sensazione e cioè che sogni, visioni e canalizzazioni abbiano la stessa matrice cambia la nostra percezione della coscienza nella consapevolezza ho capito male o è possibile quanto percepisco grazie io ringrazio te Simona perché è proprio quello che io volevo dire le persone delle volte mi chiedono che tipo di esperienze se ho avuto esperienze fuori dal corpo se ho canalizzato mi ricordo che la prima volta che me l'hanno chiesto ho detto non so cosa vuol dire però può darsi ho detto cosa vuol dire canalizzazione effettivamente sì noi abbiamo tutti questi poteri noi riceviamo anche canalizzazioni vi faccio un esempio quando per esempio stiamo sognando succede perché sarà successo a tutti che sappiamo di aver ricevuto delle informazioni che sono magari di una vita intera dalla nascita in poi oppure delle informazioni su qualcosa di scientifico oppure uno spartito di un'opera che poi diventa famosa un'opera classica queste sono canalizzazioni perché sono cose che noi pensiamo di non sapere o comunque siamo certi in questa vita di non essere venuti a contatto con questa musica con queste informazioni scientifiche eccetera noi ci svegliamo improvvisamente sappiamo che sappiamo tutto sappiamo come si fa oppure oppure c'è per esempio come si chiama Stevenson quello del gabbiano Jonathan lui scrive scriveva i libri per bambini di favole però non gli veniva l'ispirazione e alla fine lui ha chiesto lui sognava tanto e sognava questi folletti che erano dispettosi eccetera alla fine visto che era disperato questi folletti gli raccontavano la storia che lui doveva scrivere e l'ha detto lui stesso ai tempi insomma non era tanto però ci sono persone che alla fine hanno dovuto ammettere come dire guardate che sì l'ho fatto io però la fonte è un'altra secondo me va saputo e queste persone hanno avuto coraggio di fare outing anche magari negli anni venti o cosa comunque sì al massimo ci scappava una risata del pubblico però sono molte le persone anche Jules Verne che è l'autore di Viaggio al centro della terra e altri libri così cioè sono visioni che vengono di notte quindi tutta questa informazione queste informazioni che noi riceviamo sono una specie di canalizzazione poi credo di aver capito che la canalizzazione sia un essere che ti dice delle cose e che poi tu sai e riporti ad altre persone in questo senso il sogno lo fa lo fa tutte le notti è che noi non ci ricordiamo cosa facciamo dove viaggiamo che esperienze abbiamo fatto fra l'altro devo ribadire che le esperienze che noi facciamo nel sogno creano memoria memoria che si aggiunge a quella dell'inconscio la consolazione è che solitamente si tratta sempre di quello che facciamo durante la vita di veglia in questo senso abbiamo una vita che conosciamo e una che non conosciamo con il sogno però sappiamo che qui siamo limitati nella realtà di veglia con il corpo fisico ma con gli altri corpi noi possiamo fare meraviglie possiamo fare meraviglie sì bene vediamo se indietro c'era qualcos'altro ah Oksana dice che suo marito le dà nei sogni consigli e le dice cosa fare eh sì sì non sei l'unica ne ho sentite altre persone che allora mariella dice ieri sera abbiamo provato una tecnica di rilassamento per imparare ad uscire dal corpo usando la percezione visiva immaginando di trovarci in un posto di casa nostra pur rimanendo sdraiati sì 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 allora poi immagino che tu abbia seguito mariella la diretta di michele michele bizzarri sì ci sono diversi modi allora per raggiungere queste esperienze i modi sono tanti però come dicevo prima noi siamo tutti diversi quindi c'è un metodo che va bene per me e un metodo che va bene per lui per lei per l'altro quindi è un po' uno studio una ricerca se però noi vogliamo ottenere questo risultato allora ci dedichiamo e io personalmente ho provato questo quello quell'altro poi ho ottenuto quello che va bene per me quindi in quel senso lì meditazioni respirazioni oppure tecniche varie che ci sono gli strumenti al giorno d'oggi ci sono i miei tempi non c'erano però adesso ci sono bisogna vedere quale metodo sia il più adatto a noi io per esempio alla fine siccome bisogna dire la verità non è che uno è scadente o l'altro è migliore l'altro è peggiore tutti portano nello stesso posto allora tutte le discipline o queste che ne so io ci potrei mettere dentro il reiki, i tarocchi tutte queste cose qua portano tutte nello stesso posto esattamente come i sogni lucidi i viaggi astrali, le visioni portano la consapevolezza consapevolezza di qualcosa in più che siamo più del nostro corpo fisico che esistono certi fenomeni eccetera quindi bisogna vedere poi uno come si trova bene dove trova soddisfazione dove trova più che altro riscontro e quindi poi messa una base si va avanti a cercare ancora perché la ricerca in queste cose non è mai finita non è mai finita sì allora cosa vuol dire sognare la persona con la quale si ha litigato Manuela bene Manuela allora tu hai litigato e poi sogni la persona con cui litighi probabilmente essendo il sogno un'altra dimensione un altro stato di coscienza tu osservi questa persona dalla parte di questo stato di coscienza quindi la osservi diversamente perché nel sogno magari non avrai continuato la lite o magari non so che cosa è successo nel sogno però il sogno ti vuole dire che quella persona lì con cui litighi ha qualcosa che a te non piace e che probabilmente fa parte anche di te e quindi ti invita ad osservare questa persona che non è il problema ma è il messaggero sia la persona in sogno che la persona con cui hai litigato è il messaggero che deve farti capire qualcosa noi siamo esseri umani esistiamo esattamente come la particella nella fisica quantistica c'è quando c'è l'osservatore che la guarda e se l'osservatore non la guarda non si sa dov'è per noi è la stessa cosa noi siamo un corpo fisico e facciamo l'esperienza solo se siamo in movimento movimento può essere anche movimento mentale però dobbiamo fare qualcosa una lite è uno scontro un confronto molto significativo quindi vuol dire che ci sono dei pareri divergenti c'è qualcosa da sistemare perché non è possibile siamo tutti perfetti io sono te tu sei me allora perché litighiamo allora lì bisogna andare a vedere a fondo ahimè dove quando è successo che è iniziata questa cosa di irritarmi in certe in determinate situazioni allora lì se noi ci accorgiamo che questa persona con cui ho litigato mi fa venire in mente quando ho visto quella scena e da quella volta in poi quella parola non me la devi dire perché mi arrabbio e ti metto anche le mani addosso ad esempio quindi se grazie al sogno o anche grazie alla consapevolezza improvvisa io mi accorgo mi rendo conto che sto rispondendo a questa persona sulla base di qualcosa che mi è successo vent'anni fa quando l'ho capito questa cosa non succede più quindi ecco il sogno ci da dei campanelli d'allarme mi dice guarda un attimo questa dinamica perché forse qualcosa ti è sfuggito ecco in questo senso lavora il sogno sì sì allora Carla ma quando mi capita di sognare un mio caro che è nell'oltre non vedo solo il volto o c'è una storia come si fa a capire se si tratta di un contatto e non del nostro subconscio allora Carla non c'è differenza siamo tutto noi alla fine alla fine siamo tutto noi noi siamo la percezione esattamente come dicevo prima della particella io la osservo e c'è se non la osservo non so dov'è lo stesso vale per questo è il subconscio il subconscio non ha una sede esattamente come non ha una sede il sogno dove tu vedi i tuoi cari quindi ti resta la percezione la percezione hai sentito questa presenza come la persona che sai essere o hai il dubbio perché se c'è il dubbio potrebbe essere la manifestazione del desiderio di vederla oppure qualche sospeso magari un senso di colpa non lo so che è rimasto lì allora in questa visione il sogno ti fa ricordare che hai ancora qualcosa da risolvere non lo so però la percezione la percezione ti può dire io non te lo posso dire sicuramente perché al di là di quello che dici che scrivi come l'hai visto eccetera ti dirò che ci sono persone che non vedono nemmeno la persona ma sanno che c'è e sono certe non hanno dubbi quindi ecco bisogna vedere se da parte tua c'è del timore incredulità oppure bisogna vedere da cosa è partito tutto allora Agata per me i sogni sono molto più reali di questa realtà sì sono d'accordo e credo che lo siano veramente Paola buonasera rimasi molto colpita un giorno quando svegliandomi al mattino ricordai di aver scritto e poi recitato in un sogno una poesia o forse un sonetto di una bellezza sconvolgente come se fosse stata scritta da un grande poeta del passato purtroppo non ero in grado di ricordare le parole o il senso ma rimasi stupita dall'aver composto proprio io una cosa così bella un'opera poetica ho sempre pensato che fosse frutto di una canalizzazione ecco allora ah non scende più messaggio Paola allora Paola sì se per canalizzazione intendiamo quello che intendo io ti arriva qualcosa ti arriva e succede più spesso di quanto si pensi ci sono persone anch'io la sfrutto nella fase ipnagogica cioè quando ci stiamo addormentando quando ci stiamo addormentando perché siamo stanchi o facciamo un riposino di solito entriamo in fase REM molto presto però prima di addormentarci siamo nel dormiveglia e delle volte abbiamo queste intuizioni alcuni vedono volti o cose strane però anche le intuizioni ci sono nella fase ipnagogica quindi nel primo addormentamento quindi sì noi abbiamo questi canali chiusi se parliamo di canalizzazione dobbiamo aprire i canali aprire i canali vuol dire credere nelle manifestazioni non materiali quindi non banalizzare l'episodio che dicevo prima della sensazione del sentire l'energia del fermarsi un attimo e valutare ma mi suona strana questa cosa ma aspetta che guardo meglio quella scena cosa sta succedendo in realtà perché magari sta succedendo qualcosa ma nella mia mente nel mio subconscio mi ricorda qualcos'altro quindi sì volendo si può interpretare la realtà esattamente come il sogno non sarebbe tanto diverso però ripeto la percezione è la nostra quindi anche di aver ricevuto una canalizzazione o meno non importa è stata un'esperienza meravigliosa questo importa l'esperienza quello sì Cecilia buonasera un vero piacere ascoltarla grazie molto empatica sensibile gentile mi sono collegata adesso con il mio cellulare ah ok grazie Cecilia gentilissima ciao Pierangelo allora come posso fare per sognare il mio amore Gaetano che è tornato a casa nel mondo spirituale da due anni e sei mesi allora Cecilia e come ho detto prima scegli il modo che ti piace di più però mantieni il contatto con Gaetano quindi pensalo magari mentre cucini amore hai visto le faccio come piacevano a te eh adesso ne metto via un piattino anche per te poi magari fai le tue cose poi ti ricordi di nuovo che lo vuoi sognare allora gli dici va bene allora ci vediamo stanotte vestiti bene mi raccomando oppure puoi anche accendere una candela con una foto di lui e cominciare magari prima di andare a dormire ricordare non so che bel picnic che abbiamo fatto insieme ti ricordi quella figura che abbiamo fatto quanto abbiamo riso poi siamo scappati via eccetera tenere vivo l'amore soprattutto le belle cose e quindi le belle cose cosa fanno? ci fanno ci danno quel senso di pace quel senso d'amore quel senso di che bella la vita che offre queste cose che doni che riceviamo quando siamo nell'amore così apriamo il canale e quindi può passare anche l'informazione come può passare anche la persona perché non è che perché la persona se ne va non c'è più l'ho detto prima noi abbiamo un corpo fisico però abbiamo altri corpi energetici e quelli rimangono alcuni quindi la persona c'è sempre rimane non ha più l'involucro il cappotto fisico ma la persona c'è ancora quindi sapendo che c'è questa difficoltà di comunicazione a causa della nostra limitatezza e magari loro sono appena trapassati non sanno bene come funziona anche loro devono gestire un nuovo cammino che devono fare e quindi con pazienza e amore si può stabilire questo questo rapporto questo contatto si può stabilire sì quindi prova comunque sul mio canale c'è un video che parla di questo solo di questo patrizia questi volti che si vedono in quella fase di addormentamento che sono sì allora sono ultimamente di questi volti me l'hanno chiesto tantissimo non me l'avevano mai chiesto prima però io conosco il fenomeno perché ho delle persone che meditano come me anche in casa e quindi hanno l'abitudine di vedere questi volti sono come delle fotografie in bianco e nero come delle foto tessera oppure volti di profilo che siano del 1600 del 1800 o di ieri sono semplicemente volti che passano e accade in meditazione in fase ipnagogica prima di addormentarsi succede e ripeto ognuno ha il proprio modo di vedere le cose il proprio modo di ricevere messaggi so che solitamente perché a me non è mai successo so che questi volti sono tutti sconosciuti perfetti sconosciuti e quindi non saprei dovrei indagare però so che succede molto spesso questa cosa sì dei volti non credo che siano persone che vengono a trovarci o cosa non lo so non lo so Daniela come possiamo Elisabetta come possiamo ricordare i sogni allora esattamente come ho detto prima a Paola e basta volerlo e quindi lei crea il suo rito per vedere Gaetano e tu lo stesso rito per ricordare i sogni quindi prendi un libro e leggi qualcosa sui sogni e non tenere accesi i dispositivi come il telefono e la tv prima di andare a letto ma magari leggi un libro sui sogni sull'interpretazione dei sogni anche un libro sul per esempio nel mio gruppo Universo sogni ci sono alcuni libri che parlano di sogni i sogni degli altri quindi leggendo i sogni degli altri noi ci interessiamo di sogni l'inconscio lo sa vede quello che stiamo facendo perché l'inconscio siamo noi e dice ah ma tu guarda che Elisabetta è interessata ai sogni facciamole ricordare uno bello questa sera quindi ecco continuare a focalizzarsi sul desiderio di sognare leggere un po' qua un po' là come si fa e poi preparare un blocchetto con una penna sul comodino così se per caso durante la notte mi ricordo anche solo una scena la scrivo e alla mattina sono felice perché ho scritto qualcosa poi se voglio mi preparo anche non so un ametista sul cuscino prendo un po' di valeriana sono tantissime le cose ma l'importante è una sola voler veramente ricordare i sogni allora ci riusciamo anche perché delle volte noi siamo noi a dare all'inconscio il messaggio di non voler ricordare i sogni perché magari abbiamo fatto dei sogni brutti e allora dopo l'ultimo sogno brutto abbiamo detto basta io non voglio più ricordare i sogni se devo ricordarmi i sogni non dormo di fronte a una minaccia del genere l'inconscio dice va bene stai buono allora non te li faccio ricordare e questa cosa se non gli diamo un controordine rimane rimane una cosa fissa quindi le cose quando sono da cambiare ma in tutti i sensi possiamo farlo solo noi qualcosa che è diventato automatico lo possiamo sbloccare solo noi quindi ecco mostrando interesse l'inconscio se ne accorge magari non la prima sera o non la seconda ma di solito sì e poi si ricorda stella a me capita di avere delle informazioni importanti di scoprire delle cose poi al risveglio non ricordo cosa nonostante nel mentre mi dica che devo ricordarlo allora stella ti consiglio di fare come ho detto prima a non mi ricordo il nome mi dispiace di leggere qualcosa sui sogni di iniziare a tenere un diario dei sogni dove tutte le sere scrivi la data e cosa hai fatto durante il giorno e poi ci devi scrivere il sogno ti prendi un blocchetto o come preferisci qualcosa che ti faccia scrivere subito il sogno appena lo ricordi e interessarti assiduamente di sogni e desiderare di ricordare queste informazioni perché queste sono anche queste delle specie di canalizzazioni quindi sono informazioni che sai di aver ricevuto ma non te le ricordi però stella ti dico un'altra cosa perché a me è successo spesso di ricevere queste informazioni di rendermi conto che erano informazioni veramente molto importanti ma io non mi ricordavo cosa fossero non mi ricordavo allora nella consapevolezza ho detto va bene allora vuol dire che queste informazioni me le ricorderò quando è il momento probabilmente le ho ricevute sono pronte per chissà quale evento e questa cosa si è verificata allora all'improvviso io sapevo che cosa dovevo fare in una determinata situazione e mi si è aperto come tutto il libro di quello che mi era stato trasmesso in quel sogno lì quindi sì sono comunque informazioni che ci restano però se le vuoi ricordare devi dedicarti al desiderio potete anche scrivere scrivere una lettera al defunto che volete vedere metterla sotto il cuscino oppure scrivere questa sera io mi ricorderò tutte le informazioni che mi sono state date e poi me le scrivo sul mio diario in bella copia quindi fare tutte belle monfrine teatrini in modo da concentrare la nostra energia su questa esperienza e funziona funziona sempre manuela ma nell'oltre rimane l'amore che abbiamo avuto qui su molti libri ho letto che saremo tutti fratelli come si fa pensare che un compagno oppure un figlio o una madre diventi un fratello beh oddio manuela non so chi ha detto questo poi si per carità ci sono ci sono persone o ci sono libri ognuno scrive come vede le cose a modo suo come dicevo prima la sua realtà e però io non ho mai sentito questa cosa qua forse si si dice che quando uno si reincarna magari in un'altra vita era tuo marito in questa vita è tuo figlio o tuo fratello allora mettiamo le cose in chiaro secondo me una persona quando trapassa rimane rimane l'amore rimane la persona rimane l'energia della persona e rimane tutto quello che abbiamo vissuto insieme può capitare succede molto spesso anche con i figli o con i nipoti che queste persone abbiano passino delle caratteristiche alle generazioni future e quindi magari abbiamo dei nonni che hanno un nipotino preferito perché è uguale 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 identico a quel figlio che hanno perso quando aveva vent'anni non lo so quindi queste associazioni ci sono riguardo alle vite a tornare qui io che adesso sono madre per esempio di mia figlia io so che lei è stata madre mia ma non è che questo è una sensazione una percezione una mia certezza ma non cambia le cose perché l'amore è amore non c'è amore di un tipo è amore di un altro parliamo di un legame quindi non credo che vedere un marito come fratello sia un'offesa o ci manchi qualcosa perché nella relazione e nel rapporto che abbiamo a seconda se è la madre il marito il padre eccetera forse è il ruolo che ci manca quindi ci manca una madre ci manca un uomo e quello che facciamo con un uomo non lo facciamo con il nostro fratello eccetera sono cose diverse l'amore in questo senso non è non non viene meno mai non c'è trapasso che elimini cancelli un amore non credo proprio perché è proprio la nostra energia primaria il nostro scopo capire che tutto è amore quindi sì Simona forse cambia la tipologia di amore nel senso che non esiste un amore romantico ma assoluto quindi i ruoli in questo senso terreno non esistono più sì è tutto è tutto separazione quello di cui stiamo parlando in realtà noi soffriamo noi cerchiamo l'amore pensiamo di non trovarlo che non ci sia pensiamo di essere sfortunati eccetera eccetera in realtà è solo che siamo separati ci manca qualcosa perché siamo divisi è come se ci fosse una persona che noi amiamo tanto e questa persona è sparpagliata in tanti concentrati di energia in giro per il mondo e quindi dov'è questa persona dov'è? c'è però è divisa e quindi un po' come siamo divisi noi come dicevo prima mente corpo scusate mente anima e spirito delle volte siamo anima e ci dimentichiamo che abbiamo un corpo e ci dimentichiamo che abbiamo uno spirito se siamo fortunati riusciamo a mettere insieme magari un po' di mente e spirito in momenti gioiosi in momenti d'amore e belli ma comunque noi viviamo separati questa trinità che è in noi vogliamo chiamarla padre figlio e spirito santo non è mai in armonia è sempre separata prevale la parte noi come diciamo noi prevale la parte femminile piuttosto che la parte maschile prevale l'anima quindi voglia di giocare di farmi dimentico gli appuntamenti quindi la razionalità insomma siamo un po' sconnessi scombinati e quindi è difficile percepire l'amore universale noi siamo qui proprio per fare esperienza se noi vivessimo nell'amore universale col cavolo che staremmo qua a fare i matti in questo mondo frenetico così quindi sì è solo che ci mancano non tanto gli strumenti perché ce li abbiamo la consapevolezza ci manca la coscienza il collegamento con la coscienza abbiamo ancora molti limiti tutti quanti sulle credenze sui dogmi e sulle cose che esistono e non esistono sì allora bene allora sì in pratica quello che a me affascina ancora oggi e sempre di più sul discorso sogni sogni quindi informazioni canalizzazioni vedere persone eccetera eccetera è che è una fonte inesauribile esattamente come dicevo prima alla signora che voleva sognare il marito o l'altra signora che voleva ricordare i sogni noi con la mente possiamo creare tutto noi non ci crediamo ma quelle cose che ci succedono le abbiamo create noi non ci abbiamo fatto caso perché non abbiamo detto aspetta che se faccio questa cosa qui poi succede questo no non ci abbiamo pensato perché? perché come dicevo prima siamo separati vediamo con un occhio solo e non vediamo con tutti e due e quindi poi inciampiamo quindi la nostra vita è fatta così però il sogno in tutte le sue manifestazioni che siano manifestazioni di visite dei defunti o che siano sogni ordinari come quello che ho letto prima di sognare una persona con la quale ho litigato sono delle informazioni che noi non abbiamo osservato durante la veglia e che non osserveremo mai allora il sogno quando noi spegniamo quella parte razionale la parte maschile che ragiona, fa conti, che segue le regole quella si spegne e allora esce un altro modo di vedere noi stessi allora noi possiamo capire molti dei meccanismi che noi portiamo avanti in modo in modo cieco senza renderci conto vi faccio un esempio molto semplice di come funziona il karma e poi diciamo è colpa del karma sì ma il karma si può aggiustare c'è sempre quell'esempio che mi piace fare della signora che cucinava la bistecca ne tagliava sempre via un pezzo e poi la cucinava una sera il marito dice ma scusa ma perché devi tagliare via quel pezzo di bistecca ogni volta che la cucini e lei cade dalle nuvole e dice non lo so io ho sempre visto fare così questo è come siamo cresciuti ho sempre visto fare così per noi è normale e quindi lì anche quella è la creazione di un nostro mondo lo vediamo così perché ce l'hanno insegnato da piccoli allora il marito di questa donna dice aspetta aspetta un attimo ma chi è che faceva così? ah anche la nonna dice la moglie allora il marito chiama la nonna e gli dice ma ascoltami ma come mai il tuo nipote cucina la bistecca e deve tagliarne sempre via un pezzo come mai? allora la nonnina si mette a ridere e gli spiega fa sì è vero lo faceva anche mia figlia quindi la mamma della signora e dice perché io vivevo in tempo di guerra dice e avevo solo una padellina piccola così e la bistecca non mi ci stava e allora dovevo tagliare via un pezzo c'era solo quella di padella e quindi ogni volta dovevo tagliare un pezzo questo fa vedere che noi portiamo avanti delle volte delle cose che ci sono state tramandate insegnate che abbiamo semplicemente solo visto ma che non ci sono utili e allora quando scatta la consapevolezza quando la signora ha sentito il marito raccontargli la storia della padellina piccola che quindi non ci stava la bistecca di punto in bianco si è illuminata e ha pensato ho buttato via pezzetti di carne per anni e non era necessario quindi ecco lì si smonta un karma e la signora non ha più tagliato il pezzetto di carne prima di cucinare la bistecca quindi le nostre risposte automatiche nascono così il sogno ce le fa vedere il sogno ci fa vedere la padella allora noi pensiamo come mai ho sognato una padella allora poi andiamo a vedere diciamo ah sì la padella della nonna quella piccola eccetera tutti i meccanismi interessantissimi non è interessantissimi non è complicato è leggere i sogni che crea anche anche solo leggere il sogno che abbiamo scritto fa venire un'associazione c'è un sentore che qualcosa mi dice che e quando noi leggiamo i sogni non è solo il corpo fisico che legge ma è anche il corpo energetico e probabilmente anche il corpo del sogno e quindi qualcosa ci viene fuori questo sempre se lo vogliamo sì perché l'intento è tutto se invece non ci crediamo è inutile neanche mettersi Patrizia sì questo è il sistema familiare che agisce sulle memorie molto interessante sì ma non solo io mi sono accorta che avevo delle memorie che non erano nemmeno mie ma di avi esattamente come delle volte magari nasce un bambino in una famiglia non lo so dove tutti hanno gli occhi scuri nasce un bambino con gli occhi diversi con i capelli diversi allora salta fuori la nonna la prozia l'antenato più vicino che dice ah somiglia molto allo zio quello che eccetera eccetera quindi noi quando nasciamo ci portiamo dietro anche l'energia perché le nostre cellule vengono dalla madre e dal padre le loro vengono dalla nonna quindi è tutta una cosa sia fisica che energetica noi eredichiamo anche i conflitti dei genitori o dei nonni possiamo ereditarli perché questi conflitti anche se noi non li abbiamo visti non li abbiamo vissuti si sono appiccicati alla mamma allora la mamma ce n'ha passato un po' a noi insomma finché avete una famiglia indagate indagate sui meccanismi di risposte automatiche che hanno i vostri parenti e fate anche domande che io facendo domande sono riuscita a scoprire delle cose straordinarie a cui non avevo dato motivo vi dico un esempio io sono nata in Germania e quindi sono di famiglia sono di doppia cultura diciamo e quindi in Germania in tempo di guerra quindi io non c'ero non ero nata quando è stata bombardata la Germania c'erano molti sfollati cosa ha fatto lo Stato? ha detto chi ha una casa dia alloggio a chi non ce l'ha e quindi mia zia, mia mamma, mio nonno, mia nonna si sono trovati in casa con altre persone quindi persone povere bambini che piangono quindi insomma mia zia mi raccontava che non era molto felice di questa cosa questo mi ha fatto capire come mai io di mio senza pensarci e senza che mi facessi tanti problemi a riguardo non mi è mai piaciuto invitare gente a casa se non due persone o amici intimi quindi non mi sognerai mai di fare una cena a casa o di fare una festa dopo che mia zia mi ha raccontato questo episodio ho capito perché perché la memoria che mi è rimasta della gente in casa è ancora viva è ancora viva da quella volta quindi ecco però ci sono cose per esempio io su alcune cose ci lavoro solo quando mi creano un problema per esempio questa cosa non invitare nessuno non mi ha mai creato problemi invece se qualcosa ci crea problemi allora dobbiamo davvero andare ad indagare e chiedere alla mamma e alla nonna senti mai successo questo fatto per esempio delle allergie anche nascono così mi ricordo una volta in una delle conferenze di biopsicosomatica c'era una signora che aveva una febbre da fieno un'allergia enorme non sapeva più che cosa fare allora dopo un paio di domande fatte dalle persone che si intendono di meccanismi biopsicosomatici salta fuori che i nonni di questa signora erano stati beccati colti in frallagranza di reato nel fienile in atti amorosi atti amorosi che subito sono dovuti essere riparati perché al tempo funzionava così quindi è successo uno shock quando la nonna e nonno erano nel fienile e sono stati beccati questo shock trasforma il fieno in pericoloso per la famiglia ecco che la nipote ha questa allergia al fieno maturata questa consapevolezza la signora non ha più avuto allergia al fieno quindi si funzioniamo così ci portiamo dietro cose che non sono nemmeno nostre quindi figuriamoci figuriamoci il resto costellazioni familiari esatto lavorano su questo è la stessa cosa quindi anche il sogno in questo ci aiuta a sbrogliare la matassa della nostra mente delle nostre attitudini e specialmente se abbiamo dei problemi noi possiamo andare ad indagare attraverso il sogno che è sempre premonitore va bene io vi ringrazio moltissimo per avermi seguito e ci vediamo alla prossima credo ormai a settembre adesso arrivano le vacanze grazie a tutti per avermi ascoltato per aver partecipato e vi auguro una buona notte e soprattutto sogni d'oro ciao a tutti ciao ciao